È una istituzione storica e culturale illustre per Verona, è un riferimento per gli studenti del Nord-Est, l'Accademia di Belle Arti Cignaroli, che presto festeggerà due secoli e mezzo di vita. Fondata nel 1764 e posta sotto la direzione del noto pittore veronese Gian Bettino Cignaroli, è passata dallo status di libera a parificata e poi assimilata a un corso di laurea. Oggi diventa fondazione e guarda al futuro, mirando a diventare l'Accademia del Nord-Est. Cosa significa il passaggio alla fondazione? Sì, è importantissimo, sono vent'anni che ci lavora e noi gli ultimi quattro anni ci siamo impegnati molto. Significa per Verona diventare un fulcro, un centro importante sia culturale che formativo di alta formazione, che è aperto non solo al territorio di Verona ma al Triveneto. Quanti sono gli studenti attualmente? Noi abbiamo 350 studenti della scuola legalizzata, quella che dà il titolo di studio, e 150 che fanno i corsi liberi, quelli che non danno titolo. Essendo proprio un'Accademia e non un'altra facoltà, diciamo che siamo più portati anche per i lavori manuali, modellini e diciamo che ci applichiamo e andiamo fuori dal teorico. La Cignaroli rilascia diplomi di primo e secondo livello al termine di un percorso di studi triennale e un biennio specialistico. Gli studenti vengono dalla provincia di Verona e Trento, ma anche da Bolzano, Milano e Mantova. In sinergia con Conservatorio e Università Scaligera, la Cignaroli punta a essere sempre più in rete con istituzioni culturali internazionali, ma la presentazione più eloquente è quella degli studenti del corso di design, che si sentono accompagnati dalle tecniche artistiche fino ai contatti con le aziende. Sono studenti che frequentano non solo le scuole tradizionali di pittura, scultura, decorazione e scenografia, ma anche nuove scuole più legate anche alle nuove attività che si svolgono nell'ambito lavorativo e della produzione visiva, che sono le scuole di design, progettazione artistica per l'impresa e restauro. Naturalmente anche le scuole tradizionali oggi vedono una sorta di interdisciplinarietà legata alle nuove tecnologie, e all'utilizzo delle nuove tecnologie. Io credo che il legame con la creatività è uno forse degli elementi in più che un'accademia di belle arti ha per proporre qualcosa che sia utile alla crescita anche di questo paese. Iscritta a quale anno? Al primo anno di design industriale. Cosa ti ha spinto a scegliere l'accademia? Essenzialmente avevo propensione per la progettazione generale, mi piaceva l'oggettistica, il design, il design più spinto verso carrozzerie, quindi ho scelto questa facoltà proprio per questo. Un interesse molto particolare, ma hai un po' paura di non trovare lavoro, oppure quello che stai facendo ti dà la certezza che il tuo posto c'è? Mi dà molta fiducia, c'è molta fiducia di trovare lavoro, perché penso che sia uno di quei lavori che comunque serviranno sempre. Vogliamo creare delle sinergie sia con gli enti del territorio, ma anche con aziende, in cui possiamo fare dei laboratori, degli stage anche all'interno delle aziende, in maniera che possono loro cimentarsi nei laboratori che hanno parecchie ore previste dal nostro organico, sul luogo dove abitano o vicino al luogo dove abitano, e venire qua presso la nostra accademia per le lezioni teoriche o addirittura farle anche via internet. Noi abbiamo già tutte le attrezzature disposte.